Escinniu la notte, si chiama così il concerto di Mario Incudine che sta portando in Ciro per la Sicilia durante le festività natalizie, tra chiese e teatri siciliani. In una matrice cremita, ieri l'artista si è esibito a San Cataldo, nell'arco del calendario delle festività san-gataldesi denominate Tutto un altro Natale. Escinniu la notte è il nostro concerto dedicato al Natale in Sicilia, fra tutte le tappe, in tutte le chiese, i teatri siciliani, oggi tocchiamo questa bellissima cattedrale, questa bellissima chiesa madre di San Cataldo. Sono contentissimo di essere qui, mi lega a San Cataldo un affetto antico e quindi ritornare qui dopo circa dieci anni è una grande gioia, una grande emozione. Raccontare la natività ha un valore importantissimo perché grazie a questi canti, al recupero di questa memoria, ricordiamo e ci riappropriamo della nostra identità. Ritorniamo a essere comunità e ritorniamo a raccoglierci attorno alla parola, alla canzone, alla neni, alla novena, alla pastorale. Tutto questo repertorio è un repertorio che in qualche maniera unisce e sono felice di poterlo rappresentare ancora perché grazie a questa riproposta la tradizione che in materia fluida si rinnova ogni anno.